E' vero che in estate si tradisce di più? Personalmente no, a me non mi riguarda, poi non lo so, ma sicuramente magari vogliono andare fuori, si fanno nuove amicizie, ecco, magari più per i ragazzi. Ecco, lei è sposata da quanti anni e qual è il segreto dell'unione? Ma avere fede, diciamo, stare sempre insieme, anche se mio marito è un tipo che ha sempre viaggiato, è stato fuori per lavoro, quindi questo non vuol dire nulla, c'è un problema di testa. Se sia l'unione e se volebbe un'altra persona non ce l'hai, diciamo, la volontà di tradire. Ma è vero che di estate con questo caldo si tradisce di più? Io penso che sì. Perché? È caldo, qua non compro cinque tre persone. Ma lei ha mai tradito? Io no. Ma quando si tradisce, si dice o no? Penso che no. Perché? Perché io volevo sapere, ma deve fare silenzio. No, no, non si tradisce, né d'estate né d'inverno. Perché? Perché se deve essere sempre fedeli. Finché morte non ci separa. Come? Finché morte non ci separa. Sempre fedeli, o estate o d'inverno. Lei ci crede? Io certo che ci credo. Sono trent'anni che sto con mio marito, quindi ci credo fortemente su questa cosa. Qual è il segreto dell'unione? Non tradire. Visticciarsi sempre. E fare di nuovo vai. E fare sopportare, sopportare, sopportare sempre. Con questo caldo? No, signora, con questo caldo bisogna stare a belli liberi. Che dice? Lei che ne pensa? Si tradisce? Ma concordo con quello che ha detto la signora. Forse in inverno che c'è più freddo, con un bel camino. Il discorso è diverso. Ma lei ha mai tradito? Mai in vita mia. Eh, certo. Assolutamente, perché si deve tradire? O in estate o in inferno è la stessa cosa. Cioè, tradire è una parola brutta. Con la moglie, se uno ci sta bene, perché no? Se stava male, allora la cosa cambia. Ma io ci sto bene. Da quanto tempo? Da quarant'anni. E qual è il segreto? Il segreto è che siamo bene assieme, ci capiamo. L'amore. L'amore c'è. Lei capisce me, io capisco lei. Cioè, siamo tranquilli, liberi da stare tranquilli, sia con l'altro, uno con l'altro. No, non credo. Io non glielo so dire questo, mi dispiace. Perché lei non ha mai tradito? Non ho mai tradito, quindi. E perché? Non le è mai venuta la tentazione? No. Qual è il segreto per l'Unione? Tranquilità e serenità. Per lei, se dovesse tradire, è stato o d'inverno? In primavera, forse è la stagione migliore. Non fa né troppo caldo né troppo fredda.